Benvenuti all'interno del primo campo di tulipani della città di Pesaro. Nel mese di dicembre abbiamo piantumato oltre 15.000 bulbi di tulipano e ora sono ormai in fioritura e incomincia adesso proprio il loro periodo. La fioritura del tulipano durerà circa 20 o 25 giorni, quindi c'è tutto il tempo con calma di venirci a visitare all'interno del Garda e Center Florio. Al di là di questo ci tengo a sottolineare che è un progetto in collaborazione con la Scuola Agraria a Cecchi di Pesaro e i ragazzi dell'Agraria sia nel mese di novembre che in quello di marzo ci hanno aiutato nella messa a dimora e nella realizzazione di questo campo. Siamo qua oggi per inaugurare una bellissima iniziativa che ha un valore, un significato sia ambientale che anche educativo perché permette a tanti bambini, ma non solo bambini, anche tante persone adulte di poter scoprire e toccare con mano i frutti della terra. In questo caso un bellissimo progetto che vede Florio come protagonista perché sono più di 15.000 bulbi che danno un colpo d'occhio veramente stupendo. Tanti colori, un'occasione importante anche quindi per avvicinare a questo bel mondo. Oltre a venire a visitare il campo di tulipani c'è la possibilità di raccogliere ed acquistare personalmente il proprio mazzo di tulipani e quindi si entra all'interno del campo, si seleziona il colore che più vi piace, si tira fuori il tulipano, si estirpa dal terreno e poi c'è la possibilità di recidere il tulipano tenendo il fiore come fiore reciso per addornare le nostre abitazioni mentre il bulbo di ripiantarlo nel periodo autunnale per poi avere una successiva fioritura nel mese di marzo-aprile dell'anno seguente. L'obiettivo di questa iniziativa è sicuramente quello di promuovere il contatto con la natura soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni quindi un bambino che entra all'interno di un campo di tulipani è sicuramente un'esperienza che lo mette in contatto con il mondo della natura.